La prima vittoria stagionale Sono convinto che il prossimo sarà anche un po' giocata meglio perché questa squadra può crescere, siamo forti, manca solo un po' di sicurezza e abbiamo tantissimi problemi questi piccoli con ginocchia, qualcuno con la spalla ma il staff fa il suo lavoro e io sono sicuro che possiamo vincere contro ogni squadra. Va bene, abbiamo giocato non benissimo ma secondo me questa squadra cresce con Birarelli che è in campo, io sono convinto che siamo forti. Sì ma io sono un po' triste perché non sono ancora in forma, mi manca un po' forza in attacco ma va bene, si va avanti uguale, voglio dire che De Cecco oggi ha dimostrato perché è uno dei palleggiatori più forti del mondo in questo momento, abbiamo visto Christian che non ha giocato l'ultima partita che è sempre in forma e niente, andiamo avanti. Sì, è importante che abbiamo visto che possiamo vincere, adesso Cev Coppa è una cosa che vuole un po' concentrazione. Senti l'ultima cosa, poi ti lascio a tutti questi tifosi, i nostri tifosi sono la costante anche di questa stagione, no? Io dico questo dal cuore, i nostri tifosi sono veramente i tifosi più bravi nel mondo perché io non vedo neanche una squadra che ha tifosi sempre fuori da casa, penso che oggi erano più di 100. Bravi loro, bravo presidente, con loro è tutto più facile. Bocca al lupo!